Il sindaco di Pordenone Claudio Pedrotti assieme all'assessore alla sicurezza Flavio Moro ha incontrato questa mattina il comandante della polizia municipale Arrigo Buranel e gli agenti che sabato scorso hanno fermato un'automobilista che minacciava alcuni passanti con una roncola. Un incontro che vuole essere un ringraziamento per la tempestività e la professionalità che gli agenti hanno dimostrato. Il sindaco di Pordenone Claudio Pedrotti. Ancora una volta i nostri vigili non si sono tirati indietro nel momento della necessità e hanno affrontato come probabilmente avete letto sui giornali qualche giorno fa un energumeno, si dice sempre così, usando la macchina in modo improprio, alla fine li ha affronteggiati con un coltello. Noi come polizia municipale alla fine siamo l'ultimo anello di una catena che ancora regge, ci mettiamo tutta la buona volontà e tutta l'attenzione e quindi alla fine è la nostra polizia municipale sempre in prima linea. Oggi siamo qui proprio a testimoniare da un lato la nostra vicinanza e la nostra determinazione a essere vicini alla nostra polizia municipale, da un lato, ma d'altra parte anche a sottolineare come per esempio il fatto che i nostri vigili non possano usare il manganello, perché è considerato un'arma impropria ma possono portarsi dietro la pistola, ci dà qualche indicazione che forse c'è una contraddizione nei termini, nel modo in cui il tutto viene gestito che ci deve far riflettere. Bene, noi porteremo avanti politicamente queste istanze per riportare l'attenzione ai fatti e risolvere anche problemi banali e pratici come questi.